Non posso assolutamente prendermi i meriti di questa nuova ventata di entusiasmo perché questo è un lavoro, secondo me, fatto e figlio di quella che è stata la promozione, che evidentemente non riguardava Ferrara. Il nostro direttore e la società si sta muovendo in questo senso e devo dire anche in maniera veloce, già ha portato a segno qualche colpo e qualche colpo anche importante e non è detto che in futuro e nel prossimo futuro, anche breve, non possa esserci qualche altra sorpresa. Vogliamo anche essere in grado di proporre un calcio che possa divertire i nostri tifosi, sapendo che ci saranno partite in cui ci sarà molto da soffrire, ma cercando di sfruttare anche le qualità dei nostri giocatori che abbiamo a disposizione in questo momento.